Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, vlog sulla gara di Affi, la finale di Affi, ovvero per la qualificazione ai mondiali 2022. Sono qua con Nico Gaspa, che guida l'auto di Emma, però mi fa da autista, bravo ragazzo, e Ginny, che fa Ginny e troviamo nel lavoro, mi fa dai video. Siamo in autostrada, tra un po' arriviamo a Modena, che c'è il briefing da Apes Lab, il negozio per crossfit, più famoso in Italia. Andate a darvi un'occhiata, codice sconto EMA10, e basta. Vi aggiorno dopo. Giorno 1 gara, affi. Stand by, 3, 2, 1, go! Giorno 1 gara, affi. Grazie a tutti. 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 Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Grazie. Ciao ragazzi, sono il massaggiatore per questo tema. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, è uguale. Io cercherò di evitare, dai, 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 dai. Con il cuscino vale, con il cuscino. Con il cuscino vale se ti soffoco. a due punti donne, dai. E tu aspetta la presenza. Non è uguale, dai, 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 dai. Grazie a tutti.